E' spuntato, pensate, un ragno nel feretro della regina Elisabetta che si aspetta un po' di giorni fa e che, vi ricordo, ieri ci sono stati i relativi funerari a Westminster in Inghilterra. La regina è stata messa dentro la bara, ovviamente, bara avvolta da una bandiera di completo valore, di completa bellezza, a mio avviso, chiaramente. E, a un certo punto, i più si sono accorti che è letteralmente spuntato fuori un ragno, un ragnetto, un ragno di piccole dimensioni. Tuttavia, da come si reagisce su un web, quando arriva un ragno, comunque, quando viene fuori, quando si vede un ragno, o comunque ce l'ho scoperto, è un buon segno, un segno di buon auspicio, infatti, secondo i più, pensate che porta fortuna. Saranno così le cose e non staranno così? Chi dice la verità, chi mente, non si sa. Ai vostri, l'ardo sentenza. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Ripeto, il ragno era parese, anche perché alcuni, ma non tutti, lo hanno notato. Iscrivetevi al canale, nella tua vita e al commento. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.